Non solo turismo balneare a Palinuro, martedì 28 maggio fa il suo debutto il Gruppo per il Paesaggio, un'aggregazione preseduta da Giovanni Cammarano che punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni per valorizzare i beni storici, artistici e ambientalistici della cittadina rivierasca, proponendo un'immagine inedita di Palinuro fatta non solo di mare ma anche di storia e cultura. I beni storici sono soprattutto sul capo Palinuro, quelli degli ultimi secoli e sono il faro, la stazione meteorologica che una volta si chiama teleposto e una volta si chiamava semaforo, trasmettitore di segnali, poi ci sono le torri che conosciamo, le torri costiere e ci sono i fortini del periodo francese, sono tre fortini. Noi abbiamo posti bellissimi e poi banalizziamo il tutto, quindi questi posti che sono visitati da migliaia anche di persone che vanno su, però poi che cosa facciamo per conoscerli, per rivalutarli, per conservarli ed ecco che noi, questo è il nostro combi. Due gli eventi, promossi anche da Comune di Centola, Parco del Cilento e FAI che li ha inseriti nel suo programma, con cui si inizierà questo cammino di valorizzazione. Un convegno mostra che avrà luogo martedì 28 maggio alle 10.30 presso la ex casa canadese e un concerto in programma per il 9 giugno. Ci saranno i professori dell'Università di Salerno che parleranno, Adriano Caffaro che parlerà delle fortificazioni francesi, ci sarà Maria Russo che parlerà del Faro, questa è un'altra grande rivelazione appunto della professoressa Russo, tutti i progetti originari del Faro. E quindi ci saranno quattro studiosi che ci illustreranno appunto, ci trasmetteranno questi saperi e da questi e dai loro saggi, hanno scritto dei saggi in proposito, noi abbiamo tratto una mostra che appunto esporremo e proporremo all'amministrazione di farla diventare una mostra permanente. Ma c'è anche un'altra grande occasione che è sempre dedicata alla valorizzazione dei beni, che terremo il 9 giugno sulla collina della Molpa. Ci sarà un concerto al tramonto, una banda locale di giovani, qui molto bravi, quindi valorizziamo anche le risorse locali e quindi assisteremo a questo spettacolo all'interno di questa natura meravigliosa.